volo quindi scrivo il nome dell'entità e poi tra le parentesi tonde gli attributi separati da virgole quindi numero siccome numero ha il pallino pieno significa che una chiave primaria quindi tutti gli identificatori univoci della delle r diventano chiavi primarie nello schema logico relazionale poi per convenzione li andrò a sottolineare ora a sarà l'ora di arrivo e poi ora qui che è l'ora di partenza quella durata numero quindi viene sottolineato vado avanti viaggio viaggio aperta tonda data stato non c'è un identificatore univoco interno per questa entità perché questa entità è un entità debole cioè è identificata esternamente mediante l'identificatore univoco di volo quindi devo aggiungere a viaggio insieme alla data che vedete che questa linea incrocia data quindi oltre data devo aggiungere l'identificatore univoco del volo adesso cambio il nome per renderlo più chiaro altrimenti non si capisce che numero è numero del volo virgola e insieme la data il numero del volo costituiscono chiave primaria poi vedremo che questo numero volo diventa anche chiave esterna ma lo vediamo dopo al prossimo passaggio vado a tradurre a aeromobile matr chiave primaria modello sto rispettando le maiuscole e le minuscole dello schema marca e poi anno acquisto qua vabbè uso io la notazione camel case perché nello schema non è stata utilizzata e sono stati usati gli spazi come separatori ma non va bene qui è la matricola chiave primaria aeroporto con il codice e il nome la città l'accento quello posso ancora mettere e la nazione codice chiave primaria ora abbiamo un problema questa è una gerarchia ci dice che il personale costituito da piloti e da assistenti non si può tradurre nello schema logico relazionale c'è non c'è modo non c'è una regola che ci permette di tradurre direttamente questa struttura bisogna scomporla bisogna fare quello che si chiama ristrutturazione dello schema r ristrutturare questa parte ristrutturazione dello schema r che cosa vuol dire prendiamo questo pezzettino qui adesso devo fare interrompere un attimo la traduzione fare un'altra operazione pilota assistenti sono una specializzazione della entità personale perché hanno delle informazioni in più sono più specializzate però sia piloti sia assistenti ereditano dal personale tutti gli attributi questa gerarchia non si può tradurre direttamente nello schema relazionale devo fare una ristrutturazione ci sono tre possibilità prima possibilità e consiste nel mantenere solo l'entità personale ed eliminare le sottentità piloti e assistenti seconda possibilità invece consiste nell eliminare l'entità personale mantenendo solo piloti assistenti questo si può fare solo se la relazione la gerarchia è totale ed esclusiva altrimenti se non fosse totale ed esclusiva si perderebbero informazioni importanti faccio un esempio totale ed esclusiva significa che se prendo piloti e assistenti li metto insieme ottengo tutto il personale e in questo caso il personale che si vuole memorizzare costituito solo da piloti assistenti inoltre esclusiva perché un pilota non può essere un assistente viceversa se questa relazione non fosse totale e ci fosse nel personale anche qualche altra tipologia adesso non mi viene proprio in mente cosa possa essere che allora se eliminò personale come super entità e lascio solo piloti e assistenti mi vado a perdere quell'altra tipologia di personale che non è rappresentata da questo schema poi c'è una terza possibilità che quella di andare a sostituire la gerarchia con delle associazioni quindi mettere tra personale piloti un'associazione tra personale assistenti un'altra associazione così da mantenere tutte e tre l'entità c'è il modo più giusto per fare la ristrutturazione dipende da tanti fattori dipende da da quello che vi ho appena detto per esempio no dal tipo di gerarchia dipende anche dal numero di associazioni che sono collegate o alla super entità o alla sotto entità perché perché se io vado ad eliminare personale e mantengo solo piloti assistenti e personale a tre associazioni con altre entità queste tre associazioni devono essere moltiplicate per due perché tre devono andare a finire su piloti e tre devono andare a finire su assistenti sempre verso le stesse entità perché non posso eliminarle le associazioni quindi le associazioni si duplicano o si triplicano dipende da quante sono le sottentità quindi se l'entità padre l'entità genitore a molte associazioni bisogna un attimo riflettere se sia opportuno eliminarla come dita analogo discorso se ci sono molte associazioni su piloti assistenti e magari nessuna o una su personale a quel punto eliminare piloti ed assistenti potrebbe rappresentare un problema perché significa che tutte le associazioni di piloti e tutte le associazioni di assistenti vanno a finire su personale diventano oltretutto tutto opzionali comunque vediamo vado avanti con l'esempio così si può capire meglio allora vediamo la prima ristrutturazione cioè mantengo personale tolgo via piloti assistenti che cosa succede quindi se mantengo solo l'entità genitore devo andare a riportare nell'entità genitore tutti gli attributi che si trovano sull'entità figlie per cui siamo fortunati abbiamo solo questa questa attributo grado quindi grado lo devo andare a mettere anche su personale però c'è un però il grado è presente solo nel caso in cui il personale sia un pilota se il personale un assistente nell'attributo grado non ci sarà nulla quindi questo attributo diventa un attributo opzionale e lo vado a segnalare mettendo a fianco vicino al nome dell'attributo 0 1 attributo opzionale poi non basta questo non basta perché mi manca un'informazione che mi dice che di che tipo è questo personale io non lo so se un pilota un assistente quindi anche dovessi scrivere poi un programma e che deve andare da fare una distinzione tra il pilota l'assistente non lo posso cioè non so come fare perché non ho l'informazione quindi devo aggiungere un attributo che posso chiamare come voglio io qua lo chiamerò tipo un attributo che sarà definito su un dominio costituito da i valori che stabilisco io e che possono essere delle stringhe dei numeri che sono una scelta che fa al progettista che mi permettono di distinguere tra pilota assistente quindi posso mettere come valori consentiti pilota assistente oppure se stabilisco che il pilota viene codificato con uno e l'assistente con due posso mettere dei numeri questo indifferente l'importante è che ci sia un attributo che mi permette di capire di che tipo è il il personale in questione e qua si esaurisce diciamo il lavoro da fare sull'entità personale però poi bisogna andare a vedere quali sono le entità tra e scusate le associazioni che coinvolgevano piloti assistenti assistenti aveva una sola associazione assistenza con viaggio quindi questa associazione assistenza deve essere riportata su personale per cui adesso viaggio scriverò solo il rettangolino con il nome non vado a scrivere anche gli attributi assistenza associazioni di tipo 1 n 1 n cioè molti e molti rimane di tipo molti e molti rimane di tipo molti e molti ma viene aggiunta l'opzionalità perché allora se prendo un viaggio questo questo viaggio avrà quanto personale di assistenza beh da 1 a n sicuramente 1 c'è sicuramente se prendo del personale quindi se prendo un istanza un'occorrenza di questa tabella personale e quanti in quanti viaggi fa assistenza questo e questa istanza questa accorrenza di personale beh dipende se è un assistente da 1 n se un pilota da 0 n quindi se il personale un pilota questo non farà mai assistenza nei viaggi per cui devo aggiungere l'opzionalità qui tra pilota quindi di nuovo tra personale e viaggio c'è l'associazione comandante quale associazione rimane della stessa che le cardinalità rimangono massime rimangono le stesse quindi 11 è già 0 n quindi era già opzionale 110 e ragioniamo se prendo un viaggio in questo viaggio questo viaggio quanti comandanti a 1 giusto il preso personale questo e comandante su quanti viaggi viaggi e nel massimo ma potrebbe essere zero al minimo perché se il personale e un assistente non sarà comandante quindi ci è giusta l'opzionalità ma c'era già ultima associazione è quella di vice pilota sempre con le stesse cardinalità di comandante quindi aggiungiamo ancora vice pilota e anche qui di nuovo c'è già l'opzionalità ragionamento lo stesso preso un viaggio quanti vice pilota a 1 e preso un un un'occorrenza di personale e questo fa il vice pilota in quanti viaggi 0 o n 0 perché appunto se un assistente non sarà mai vice pilota vediamo adesso l'applicazione invece della seconda ipotesi c'è quella dell'eliminazione delle entità dell'entità padre quindi il cambio come si fa a togliere via personale beh si fa un po al contrario rispetto quello abbiamo fatto prima perché tutti gli attributi di personale devono finire andare a finire su le sotto entità a questo punto avendo rimosso l'entità genitore quindi l'entità personale questa non aveva associazioni con nessun'altra entità quindi non c'è nulla da fare nulla da aggiungere se ci fosse stata qui un'associazione che ne so tra personale e aeroporto per esempio allora avremmo dovuto creare questa associazione tra personale e aeroporto una volta per i piloti quindi piloti associazione aeroporto e una seconda volta per assistenti assistenti associazione aeroporto quindi per ogni associazione presenti su personale che è stata tolta questa associazione va duplicata e rimangono le associazioni tra piloti assistenti così come le vedete qui quindi non so neanche ridisegnarle non cambia nulla non cambia neanche la cardinalità perché sono proprio le stesse poi abbiamo una terza possibilità qui non eliminiamo nessuna dell'entità le manteniamo tutte e tre però andiamo a sostituire questa gerarchia con delle associazioni che tipo di associazioni sono queste sono tutte associazioni uno a uno opzionali perché perché preso un personale per preso un un'istanza un'occorrenza di personale questa è a quanti piloti corrisponde beh dipende se non è un pilota zero quindi al minimo zero ma se un pilota al massimo uno analogamente se prendo un pilota questo a quante istanze di personale corrisponde a una sola stessa cosa da questa parte il personale non è detto che sia un assistente ma se prendo l'assistente questo corrisponde a uno e un solo personale e devo aggiungere l'identificatore univoco per piloti assistenti allora potrei aggiungerne uno caso ma solitamente si fa così si va a inserire questo pallino così questa linea con questo pallino pieno su questo arco che sta a indicare che è pilota è identificato esternamente con personale cioè acquisisce come identificatore univoco identificatore univoco di personale idem per assistenti ogni assistente avrà come identificatore univoco quello di personale cioè la matricola bene queste sono le tre possibilità poi si possono avere anche soluzioni miste quando ci sono degli schemi più complessi quindi la prima traduzione abbiamo personale quindi vado a scrivere la relazione personale con tutti gli attributi ok poi adesso andiamo a tradurre le associazioni partenza associazione partenza tra volo e aeroporto associazione di tipo 1 molti devo prendere la chiave di aeroporto quindi questo codice e inserirla come chiave esterna in volo quindi aggiungo a volo la chiave primaria di aeroporto cioè il codice codice aeroporto il fatto che io cambi nome e semplicemente perché quando poi vado a leggere gli attributi di questa tabella di questa relazione e se scrivo solo codice non riesco a capire bene a cosa si riferisce scrivendo codice rapporti invece più chiaro ma non è obbligatorio cambiare il nome poi volendo posso sempre usare lo schema dei colori se voglio evidenziare collegamento tra i vari attributi ma anche questa è una cosa che faccio io non è che serva particolarmente se non ad aiutare voi a poi a fare a scrivere le sql arrivo arrivo un'associazione invece di tipo molti e molti lo capisco perché le cardinalità massime sono n ed n quindi devo creare una nuova tabella una nuova relazione che chiamerò arrivo e questa avrà come attributi come chiave primaria l'unione delle chiavi primarie di aeroporto e di volo quindi aeroporto a codice come anche qua stivo sempre aeroporto codice aeroporto quindi aeroporto a come che per primare il codice mentre il volo a come chiave primaria numero non ci sono altri attributi su arrivo sull'associazione arrivo quindi gli unici attributi sono questi che insieme costituiscono chiave primaria quindi di sottolineo separatamente preso uno alla volta sono chiave esterna chiave di primo codice aeroporto e chiave esterna che fa riferimento a questa tabella aeroporto mentre il secondo attributo è chiave esterna che fa riferimento alla tabella volo quindi questi sono attributi definiti sullo stesso dominio che ci permettono di correlare tra di loro correlari dati delle due tabelle arrivo aeroporto arrivo via e volo adesso vediamo ancora questa associazione chiamata associazione tra volo e viaggio quindi un'associazione di tipo 1 molti dobbiamo prendere la chiave primaria di volo che il numero del volo e andare ad aggiungerlo come chiave esterna viaggio però viaggio ce l'ha già questo attributo che l'avevamo messo viaggio identificato esternamente quindi basta aggiungere quale asterisco poi abbiamo effettuato effettuate sempre un'associazione uno molti quindi prendo la chiave di aeromobile che è matra e la vado a mettere come chiave esterna a viaggio quindi aggiungo qui la matricola dell'aeromobile adesso scrivo matricola per esterna ora possiamo passare alla nostra gerarchia ristrutturata devo andare a prendere per comandante la chiave di personale e metterla come chiave esterna viaggio quindi aggiungiamo qui a viaggio la matricola del comandante in questo caso matr comandante chiave esterna traduciamo vice pilota vice pilota anche qui dobbiamo prendere la matricola e metterla come chiave esterna in viaggio ma bisogna andare a scrivere un altro nome sarà la matricola del vice pilota poi dobbiamo aggiungere una tabella assistenza dove mettiamo come chiave primaria l'unione delle chiavi primarie di personale e la chiave primaria di viaggio che vedete costituita da due attributi quindi matricola personale date numero volo insieme sono chiave primaria quindi tutti insieme queste costituiscono la chiave primaria per quanto riguarda le chiavi esterne attenzione abbiamo una chiave esterna questa matricola personale che fa riferimento a questa a questa chiave primaria matra della tabella personale quindi questa è una chiave esterna poi abbiamo date numero volo non sono due chiavi esterne separate ma sono una chiave esterna composta perché fanno riferimento ad una chiave primaria a sua volta composta quindi è molto diverso adesso vi faccio vedere qua io uso le parentesi quadrate e metto un asterisco al fondo della parentesi per far capire che questa è una chiave esterna composta ok abbiamo terminato grazie a tutti